Grazie Ah, non puoi svolgere una pianta No, no Eh, figa, eh, ciao Eh, mi dice, chi cazzo era? Se il cazzo era mio che scappia a guardare se cazzo è una cosa Cazzo c'era da vanta Cazzo c'era da vanta Portami, signoria, fa malissimo Si sparano, ha capito Dado il tempo per... sono morti due, sono morti quattro no ma poi non è che sparano, lo vuole un catturante oh 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 è bello come comunque lui non è solo, vedi? vedi che ci sono le artigure, guarda visto? non era solo lì ho preso le armi ho preso le armi ho preso le armi ho preso le armi guarda come è fatto questo qua mi ha preso le armi guarda come ricarica la munizione ecco lo va bene fa bene un video lo vedo, via girati che gioco di squadra gioco di squadra troppo forte forte questo e quindi erano tre più quello lì quattro il primo era quello di te sentato un quarto contro sessanta erano ammazzati tutti sì e loro neanche un gratso è bello è bello mi ha pregato le armi forti è forte? come ne ha caricato l'arma è un po' forte come ne ha caricato è un po' forte come ne ha caricato si si ah ma è su youtube so bisogna mettere si Sì, bella sigaretta.